Medicina e agricoltura, due scienze per la vita umana nelle lezioni di educazione civica. Questa volta siamo al liceo artistico del dottor Tagliaferri. Allora, Stefano Tenti, tantissimi ragazzi sempre più giovani. Che bello però, eh? Tanti ragazzi giovani, che li vedete alle mie spalle, che interessati, ancora c'è da esserci la lezione, ma le precedenti lezioni sono stati tutti interessati, nemmeno un telefonino si vedeva, cosa bellissima. Tramai qualche migliaio di ragazzi ha assistito alle lezioni di educazione civica, ripeto, tutti attenti, sempre attenti per una materia, insomma, che potrebbe anche essere noiosa, quale l'educazione civica. Dottor Rossi, questo è un suo campo di battaglia, un argomento importante, la medicina e l'agricoltura. La medicina vede gli effetti che il cibo produce sul nostro corpo. L'agricoltura produce gli alimenti. Oggi noi mangiamo alimenti che non sappiamo da dove vengono, chi abbia coltivato, quali additivi chimici contengono e dobbiamo assicurare la sicurezza, che è un diritto di ogni persona, accanto alla parola sicurezza o aggiunto alla parola sicurezza alimentare. La scuola è un ambiente educativo e quindi, al di là di tutti i contenuti e la professionalità che i ragazzi acquisiscono all'interno delle nostre scuole, si devono confrontare su argomenti che sono vitali e importanti per il loro futuro, il futuro proprio il loro personale e grazie, insomma, al contributo di persone veramente esperte i nostri giovani possono crescere sani ed equilibrati ed è una cosa bella nella scuola.